Musica Buongiorno raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video Bellissima notizia per la Formula 1 italiana Infatti dal prossimo anno avremo di nuovo 8 anni dopo un pilota in Formula 1 Infatti avremo il buon Antonio Giovinazzi che guiderà l'Alfa Romeo Sauber affiancando Kimi Raikkonen E quindi torna un pilota italiano Finalmente, finalmente davvero una bellissima notizia per la Formula 1 italiana e per tutti gli appassionati Insomma, dopo 8 anni era anche l'ora di rivedere un pilota in Formula 1 E questo è molto importante perché potremo non solo divare la Ferrari Ma anche un pilota in qualsiasi scuderia corra avremo un pilota che è in Formula 1 Giovinazzi se lo merita davvero di sostituire Ericsson che non aveva ottenuto risultati esaltanti Anche perché, insomma, Giovinazzi io lo considero più forte di Marcus Ericsson Che aveva letteralmente deluso le aspettative negli ultimi anni E quindi dai, forza, forza, forza Giovinazzi Ale, 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 forza Giovinazzi Forza Giovinazzi E speriamo che tiri sulla Formula 1 in Italia E che nei prossimi anni arrivino piloti forti Che possano rappresentarci a parte la Ferrari E voi ragazzi lasciate tante mi piace al video Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Piggiate il bottoncino, iscriviti qua sotto E siete già iscritti Lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate Lasciate una marea di mi piace al video e condividete questo video E noi rivederci la, ci vediamo al prossimo video